Il bypass ferroviario solo per Pesaro e Fano non si può fare. Continua a ribadirlo il governo della Regione Marche nell'ottica di un progetto reputato strutturalmente non sostenibile. Lo ricordato a più riprese l'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli, lo ribadisce anche chi, come Nicola Baiocchi, da Pesarese Doc, invita a pensare ad un obiettivo che da Pesaro possa essere unito al resto della dorsale adriatica regionale. Qualcuno lo utilizza e lo strumentalizza per questioni politiche, che forse è per distogliere la realtà da quello che sta succedendo a Pesaro. Invece il centrodestra a livello regionale, ma anche a livello nazionale, con il governo, con il sottosegretario Bignami che ha parlato più volte di questa tematica, vuole dare una visione molto più complessiva, che non ci si può limitare solamente a un bypass. Io sono a Pesarese, ma ritengo che sia comunque un'operazione sbagliata. Nessuno vuole scippare soldi a nessuno, ma volutamente l'Europarlamentare Ricci omette di dire cosa sarebbe stato questo progetto, dove passava questa linea, questo progetto che era stato fatto inizialmente, quindi passava all'interno veramente dei condomini di alcuni quartieri, un progetto veramente all'altezza di 12 metri, una cosa assolutamente non sostenibile. La Regione Marche vuole dare una visione complessiva sulla dorsale adriatica e non un progetto solamente per alcuni. Anche da Pesarese, certamente cerco di valutare sempre i benefici di un'opera del genere, ma bisogna ragionare sempre in un termine complessivo, non solamente per una questione di parte politica. Al di là del progetto in sé, fa discutere la rinuncia ad un miliardo e 800 milioni di euro nell'ottica di un altro mastodontico progetto regionale, con risorse infinitamente superiori, il cui riperimento è tutto da costruire. Si può lavorare anche a Stralci, si può lavorare sulla prosecuzione della parte romagnola che sta andando avanti e procedendo, quindi noi dobbiamo farci trovare pronti, sicuramente come Regione Marche c'è un grande sostegno e un grande appoggio anche da parte del governo. Chiaramente è un progetto lungo, faticoso, sarà necessariamente a bisogno di trattative, di concertazione nei territori, però sicuramente è meglio ragionare su un'idea complessiva che un discorso solamente per una parte.